Adesso il Presidente dell'Autorità Garante della Crips, della protezione dei dati personali, il Dottor Soro, eccoci qua. Allora, mille appunti qua. E come la viene questa questione, come dire, di una chiamata Bottoni, luogo comune in cui si possono incontrare i regolatori nazionali per non accavallarsi nei voli, nelle competenze per coordinare con la loro attività al meglio, ma solamente nella condizione di poter portare la massima tutela con il mondo di costruzione. Grazie. Risponderei subito dicendo che al momento non mi sentirei di dire che questo luogo comune è efficiente. Ci sono sicuramente delle relazioni fra le varie autorità più o meno intense. Penso, e sono convinto, che debba nella relazione che ha appena indicato il Presidente di Adottorità per l'Energia e il Gas, accentuarsi molto questa opportunità. Anche perché credo che i riferimenti, i fattori che definiscono il perimetro del lavoro delle varie autorità sia segnato da elementi assolutamente comuni. vorrei richiamarle così, in qualche modo, indico anche quali sono i temi che più impegnano con l'autorità che io presento. Con le forze, tra l'altro, ridotte in questo momento, no? Perché ci avete anche un po' di questo. Assolutamente ridotte. I due fattori che definiscono il perimetro di lavoro sono, a mio parere, che lo ha indicato molto bene in questo lavoro di rapporto presentato stamattina, la crisi, certamente, la crisi dell'economia, da una parte e dall'altra, io aggiungo, in modo molto deciso e assolutamente innovativo, gli effetti esplosivi della rivoluzione digitale, del cambiamento strutturale, dei comportamenti della società e quindi delle qualità, qualità delle relazioni che si aprono fra i cittadini, fra i cittadini e le imprese, che pongono assolutamente i problemi lediti, rispetto ai quali nessuno, da solo, può pensare di avere tutte le risposte necessarie. La crisi, certamente, si è detto, la crisi dell'economia occidentale, in modo particolare, ma, per come noi la vediamo nel nostro paese, con un grande acuzio, e finisce con spostare, in modo sempre più evidente, l'interesse delle varie espressioni di governo, in favore, diciamo, della domanda economica, del tentativo di offrire una risposta al bisogno di più efficienza e più libertà, dell'impresa, e qualche volta, qualche volta è un eufemismo, spesso, il tentativo di dare una risposta finisce con mettere in posizione residuale la difesa dei diritti dei cittadini, e sostanzialmente di comprimere in una posizione marginale la difesa dei cittadini. Io vorrei dire che una democrazia che considerasse un russo la difesa dei cittadini in tempo di crisi sarebbe una democrazia non in buona salute. In particolare, in un paese nel quale, lo voglio ricordare, esiste una carta alla quale, a mio parere, dobbiamo sempre richiamarci di riferimento, che è quella che mette insieme i principi che rendono sopportabile la vita comune con gli interessi contraposti, che è la nostra Costituzione, che specificamente l'articolo 42 dice che la libera iniziativa dell'impresa pirata non può mai avvenire in assenza di tutela dei diritti fondamentali dei cittadini. E questo richiama, a mio parere, deve essere, diciamo, la bussola con la quale governare i processi e le contraddizioni e anche i conflitti che il tempo di crisi produce. Aggiungo che per quello che riguarda l'autorità per la protezione dei dati personali, questa autorità trae diretta origine e legittimazione dalla direttiva europea che ha voluto proteggere i dati personali nell'anno, nel lontano, 95, come strumento per rendere più facili i rapporti di impresa nella dimensione, nello spazio economico europeo, per favorire la libertà di movimento dei beni, dei servizi, creando un equilibrio fra questa libertà economica e la difesa dei dati personali, considerato il dato personale come un'espressione di libertà, una espressione primaria del diritto alla vita dei giudici. Io vorrei dire che la vita è sempre, ricordarlo, è sempre più, ma è sempre stato, un susseguirsi, un flusso continuo di informazioni che si svolge nello spazio fisico, prima sempre solo nello spazio fisico, oggi è sempre più nello spazio digitale, ma è la vita. Le nostre informazioni personali non sono un qualcosa di marginale, sono un'espressione della nostra vita, tutte le volte che non viene protesta una informazione che ci riguarda personalmente non viene protesta la vita. E se nello spazio fisico o nello spazio digitale viene reso difficile esercitare i diritti, se viene resa possibile il frutto della nostra identità, ma questa è una condizione in cui prendiamo la libertà. E quindi l'equilibrio che è la Costituzione nostra, ma l'ordinamento europeo, ci impone quello di proteggere i diritti in una condizione, in qualunque condizione. Perché questo è il segno principale che rende distingere le democrazie liberali da altri legiti. Anche in un paese che deve combattere la forte evasione fiscale, voi avete fatto un intervento molto incisivo sul tema del redditometro. Direi che tutti i temi nei quali va esercitato un bilanciamento, la ricerca di un punto di equilibrio sono i temi in cui si eserce questa questione. E di questi giorni il nostro parere è sul redditometro cosiddetto, che, voglio dire, è apparso molte letture come una bocciatura, più semplicemente voglio dire che in questo caso il punto di difetto originario sta nel fatto che si è emanato nel tetto ministeriale che aveva riferimento importante ai dati personali senza chiedere il parere dell'autorità competente. Così come la legge prevede, noi abbiamo dovuto perdere, non perdere, ma utilizzare forti mesi per rendere possibile una conversione del procedimento. Devo dire fatta in buona e assoluta, corretta e leare collaborazione con la direzione dell'Agenzia delle Entrate, ma perché il provvedimento nasceva con un vizio di fondo che era quello di pretendere, di attribuire dati di carattere generale costruiti attraverso la ricerca di ISTAT con una finalità che è statistica e che la nostra legge, il codice della Pribes, dice espressamente che i dati raccolti con finalità statistiche non possono essere utilizzati per imporre dei pioni ai singoli contribuenti. Quindi c'era un vizio di fondo che forse fin dall'inizio andava escluso. Abbiamo, lavorandoci e trovando le forme giuste, modificato il profondità, il provvedimento, fino al punto di renderlo compatibile con il complesso degli equilibri che sono necessari. Deve essere chiaro che la lotta all'evasione fiscale corrisponde anche questa alla tutela del diritto che è il diritto all'equità fiscale e che va bilanciata col diritto alla protezione della vita privata, della giurantezza, per evitare che l'invasività eccessiva finisca con lo sbilanciato. L'equilibrio è esattamente l'espressione più matura di un dettato costituzionale che ci impegna a ricercare questi equilibri. E lo abbiamo fatto in questa occasione e poi lo abbiamo fatto in tante occasioni anche in questa macchina. Voglio ricordare che meno di un anno fa noi abbiamo anche lì un lavoro di modifica profonda in materia di racconti, di anagrafe dei conti correnti prodotto un effetto di sicurezza dei dati, di protezione dei dati che non solo ha messo al sicuro la vita privata dei cittadini ma anche ha reso molto più efficiente il sistema dell'anagrafe perché poi il problema non è mai di sbilanciare l'efficienza con gli diritti. Si può, bisogna, con la ricerca, ricercare il punto di equilibrio che serva a mettere insieme efficienza dei sistemi complessivi del nostro Paese che si esercitano sui grandi temi come questi ma anche su quelli piccoli. Io lo richiamo solo per non portarvi a troppo tempo. Una delle cose che più da questi giorni cioè, non ho impegnato, ma ci ha spinto a prendere, ad assumere un poverimento generale che adesso sottoponiamo a consultazione che può sembrare banale, le chiamate multe. Le chiamate multe sono un'espressione sono state, così come sono state in qualche modo avviate nella pratica, diciamo, nelle società che utilizzano un micro-center fondamentalmente, un modo per rendere più efficiente l'impresa fino al punto di arrivare anche a sfruttare al massimo i lavoratori creando con dei dispositivi tecnici un invino di chiamate molto maggiore rispetto a molti operatori che poi possono parlare con i consumatori e gli utenti telefonici. con l'effetto che il tempo in cui un nuovo operatore non è pronto si trasforma in chiamata multa e il cittadino riceve una chiamata silenziosa e per alcuni è banale, per molti è angosciosa. Noi abbiamo ricevuto in pochi mesi più di mille segnalazioni cioè un numero di segnalazioni che rispetto alla generalità e segnalazioni è assolutamente... abbiamo trovato un punto di equilibrio non impedendo di utilizzare questi strumenti ma condizionandoli a procedure molto precise in difesa del consumatore perché il consumatore non può essere il punto su cui si scarica l'esigenza di rendere più efficiente il sistema dell'impresa di corse e quindi ci sono temi cito uno che fosse grande e banale ma insieme a questo vorrei ricordare un insieme di interventi fatti nella stessa logica come quella della informazione commerciale in cui... registra delle posizioni, no? ma registra delle posizioni per la parte che riguarda l'aggressività del marketing per un altro settore quello delle informazioni commerciali del progressivo crescere di banche dati settoriali in cui... che consentono a cittadini e a operatori di accedere a sistemi di informazione e sì che anche diversi da quelli per i quali avrebbero titolo è uno dei settori in cui si rischia per rispondere a una legittima esigenza delle imprese di avere informazioni utili per la propria attività però di produrre se non governate effetti di discriminazione di stigmatizzazione sociale terribili stiamo lavorando in questo campo voglio dire per concludere, credo a breve un codice di ontologico con le varie aziende interessate proprio per trovare il punto di equilibrio che non metta fuori gioco questo sistema ma che dia certezze ai cittadini di avere delle tutele naturalmente tutto questo avviene nella vita nello spazio fisico abituale poi c'è tutto un campo appunto del nuovo spazio digitale nel quale se stiamo noi a mettere le nostre mail su tutti i siti che visitiamo poi ecco lo spazio digitale rende ancora più comprensibile l'equivalenza fra i dati personali le informazioni personali e la vita perché noi consegniamo quotidianamente informazioni che ci riguardano non solo quando utilizziamo lo smartphone per fare acquisti anziché usare il contante ma in qualche modo nello stesso momento in cui lo stiamo usando stiamo consegnando informazione a un destinatario altro rispetto a quello che abitualmente era l'interlocutore con cui abbiamo a che fare quando paghiamo i contanti o anche quando paghiamo con un assegno ma quando utilizziamo si parlava prima della smart sì ma il progressivo di datarsi attraverso l'evoluzione tecnologica di sistemi cosiddetti intelligenti che rendono la vita qualche volta un po' meno piacevole rispetto a quello che probabilmente era negli auspici o è negli auspici di ognuno dei singoli attori che hanno promosso la smart city fino al punto dell'utilizzo di internet della consegna quotidiana ma di parti crescenti della nostra vita sotto forma di informazioni che non muoiono nel dispositivo ma che vengono poi raccolte veicolate fino a arrivare a un contentone oggi sempre più in grado quindi in un luogo assolutamente distante e spesso sconosciuto anzi direi più frequentemente sconosciuto raramente noto in cui vengono non solo raccogli e conservati ma vengono poi elaborati intrecciati per obiettivi di profiliazione commerciale naturalmente la profiliazione commerciale consente ai grandi grossi di internet per accumulare grandi riccheze i dati personali sono diventati una fonte di gigantesca ricchezza la più grande ricchezza del nostro tempo sono i dati personali utilizzati dalle società che attraverso queste diventano intermediari sempre più esclusivi tra chi produce i beni e chi li consuma e in forza di questa ricchezza offrono servizi apparentemente gratuiti e noi in forza della gratuità consegniamo sempre di più parti della nostra vita che producono l'effetto di avere una nostra identità digitale presente in una contentoria in una banca d'atti usata da altri venduta resa al progetto di commercio perché è evidente che i grandi grossi di internet vendono le nostre informazioni che non sono genericamente informazioni aggregate per cui uno può pensare che sono le informazioni di un paese di una regione sono le informazioni sempre più individuali fino al nome e al cognome per cui queste informazioni che oggi vengono utilizzate molte per ragioni commerciali come no possono essere utilizzate anche da altre finalità e le finalità per cui sono state utilizzate ora si sa del data gate ma penso che non sia l'unica agenzia di sicurezza nel mondo che attinge il punto di incrocio di tre fatture quello della profilazione commerciale spinta fino alla raccoglia non si pensa che i servizi servizi intermedicani volessero sapere le attitudini di spesa dal signor hanno trovato un sistema già pronto per cui non c'è più ragione di andare a fare il confero per lo sette la racconta delle informazioni presso il cittadino che vive in qualunque paese del mondo perché basta bussare lì dove sono contenute le identità di tutti noi e si hanno tutte le informazioni e il combinato tra questo elemento fra il deposito di cavi di fibre ottiche a portata di mano non di più ma di alcune a modo a portata di mano e la legislazione emergenziale degli Stati Uniti ha prodotto l'attività questo insieme di fattori ma non è che solo gli Stati Uniti possano accedere è che non solo solo gli Stati Uniti hanno i colossi di internet ci sono altri attori nel mondo in altre parti del mondo che sempre di più invadono il mercato digitale e che sempre di più si radicheranno dentro tutti i nuclei del sistema delle comunicazioni elettroniche che sempre di più saranno capaci di avere capacità anche competitiva rispetto ai grossi mercati quindi lo scenario è uno scenario assolutamente complicato ma per molti aspetti anche molto preoccupante di cui forse dovremmo avere più netta consapevolezza concludo per dire che evidentemente in questa prospettiva può occorre interagire che tutti ci mettano la loro parte le istituzioni naturalmente i dati personali devono essere percepiti come la vita e quindi vanno potenti dal primo giorno da quando noi facciamo una qualunque operazione dovremmo avere la consapevolezza che non è un'altra vita non è una vita virtuale è la vita reale cioè quando noi consegniamo le nostre informazioni al contenitore internet piuttosto che usiamo lo smartphone stiamo vivendo realmente stiamo scambiando informazioni nella vita reale non una vita reale però Presidente solo un'ultima domanda poi la lasciamo ma secondo lei nella percezione dello Stato ci sono problemi di privacy di serie A di serie B perché appunto mi colpiva molto quello che lei diceva prima nella costruzione del nuovo redditometro il parere dell'autorità garante dei lati personali non è stato neanche chiesto se siete voluti intervenire in un momento successivo scoppia il datagate lei stessa scrive una lettera Presidente Letta ha subito firmato un protocollo con i 007 italiani per fare in modo che si possano evitare che gli abusi c'è appunto e lo Stato recepisce immediatamente la gravità del problema ci sono problemi in serie A di serie B no c'è a mio parere io non dico polemicamente con nessuno tanto meno con questo governo che c'è da poco insomma c'è una sottostima del valore della protezione dei tanti personali per cui la struttura dell'autorità che in Italia non è una concessione benevole di un governo l'ordinamento volontario che ha imposto di avere questa autorità in Italia come in tutti i paesi europei io registro solo che l'autorità che io presiedo ha uno sparuto gruppetto di volontarosi e bravissimi funzionari a fronte di ministeri che hanno funzioni altrettanto importanti ma che hanno decine di migliaia dipendenti che forse c'è una sproporzione per cui se a noi si chiede com'è giusto perché la legge di avere la tutela dei dati personali anche nell'ambito dell'attività di intelligence per cui io sono parte attiva per costruire insieme al direttore del Dipartimento per la Sicurezza un protocollo che renda più efficiente questa nostra capacità di tutela naturalmente bisogna anche sapere che poi va accompagnata questa attività da realtà risorse e noi andiamo invece in una condizione devo dire inaccettabile di finanziamento dell'autorità lo dico l'avanzo ai colleghi ai quali si fa carico di finanziare e risulta l'autorità dell'applicazione dell'applicazione perché noi non siamo un'autorità in regolazione quindi non possiamo attingere dei regolati ma non è pensabile che lo dobbiamo attingere dai cittadini italiani per tutela aspetterebbe al governo lo stiamo chiedendo con forza credo che fra qualche giorno alzeremo anche io devo invece che Cottarelli riprenderà ad esempio e magari trasportire le altre spero di no naturalmente grazie grazie grazie